Ciao a tutti ragazzi, oggi vi parlerò dei motori che possiamo trovare all'interno dei nostri computer o comunque all'interno dei nostri elettrodomestici dotati di ventola o comunque supporti rotanti all'interno per il loro funzionamento. Allora, diciamo che il primo è un motore standard di vecchio stampo che praticamente funziona con una classica corrente a 12 volt e questo è un motore praticamente che veniva utilizzato, viene ancora utilizzato diciamo anche sui vecchi pc o comunque roba elettronica di vecchio stampo viene ancora utilizzato diciamo per aprire il carrello dei lettori dvd per esempio o dei masterizzatori e questo diciamo che è un motore molto semplice, basta collegarci una tensione a 12 volt e lui praticamente va a funzionare. Quest'altro invece è più complesso, questo è un motore di un hard disk per farvi un esempio ed è un motore modello brushless. Qual è la differenza tra i due? Allora il primo basta collegarlo con una semplice corrente a 12 volt e il motore andrà a funzionare mentre questo qui, il cosiddetto brushless, necessita obbligatoriamente di una scheda elettronica cioè se noi andremo a collegare il motore con una corrente classica a 12 volt non otterremo nulla il motore non girerà perché necessita di una programmazione apposta su una scheda elettronica infatti se voi notate sotto ha ben quattro contatti invece di due classici fili questi sono motori utilizzati per esempio per gli hard disk o per le testine dei lettori dvd o per le ventole, anche le ventole oggi sono brushless prima erano diciamo motore standard a 12 volt adesso invece sono brushless sono più convenienti perché con questo tipo di motore si regola tramite la programmazione informatica elettronica la velocità di rotazione del motore stesso quindi andrà a girare più lentamente o più velocemente in base al comando che il computer o l'elettrodomestico andrà a dare al motore spero di esservi stato utile anche in questo video e ci vediamo alla prossima un saluto a tutti da Informatica Fai Da Te